Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su Spada92 Paradise Oggi con il buon Barbo e il Maxo Stavolta che ho avuto una parola buona Non era buona E apriremo un box preso ovviamente da Fantasia Store Dopo vi dirò Anche Simone è preso da tutta questa cosa Si è coinvolto, si è coinvolto troppo Guarda che ha preso, eccolo qua Tu sempre da Fantasia Store Ha preso i pacchetti Tre pacchetti ha preso Quattro Quattro pacchetti e anche tre box Poi tre box d'Elite, d'Ossidiana Gli piaceva per forza il Charmander che c'è stata Dentro uno me l'ha regalato a me Quindi nel prossimo video Se siete bravi e mettete like in questo momento Apriremo tre box Elite, uno è mio Quindi devo scegliere bene qual è Perché diventa come beccato sto cazzo di Charizard Ex di terra cristallizzato E in più I quattro pacchetti Di cui uno è mio No uno è mio Certo Tanto non c'è gioco Come diciamo I guadagni di Maria Cazzetta Lo ho capito Grazie Fantasia Store Dove potete trovare Grazie Fantasia Store Aspetta Vabbè tu hai pagato Grazie Simone che ha comprato da Fantasia Store Grazie Simone che ha comprato da Fantasia Questo me l'ha mandato a me Ma che vuoi E io dico grazie Fantasia Store Che come sempre Puntuale Tutto imballato bene E arriva dopo 24 ore Qua sotto vi lascio il link E anche il mio codice sconto Il 5% Cioppate Ma ovviamente ragazzi Allora Simone sta Per morire Perché? Perché si è appena bevuta una birra Non è vero Si è venduto un polmone Per qui i tre box Beh sta a fare reazione allergica Che gli sta a fare reazione allergica E quindi Se si ti fa E per quello Speriamo che non debba portare in ospedale Mentre invece Max È così Il box Eccolo qui Che sta a fare queste cose? Così Come voi te lo trovate Così All'edicolante Ecco come fanno Ma questo che magia Vediamo un po' Sono 36 bustine 36 riso 3 Quindi su 2 è 18 E fino alla E fino alla Ok sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 E poi voglio Queste Sì ma non è che tante volte di carte sono mie 6, 10, 4 12 3 12 Quindi io mi sto prendendo i scarti vostri 4 e 3, 6 Guarda se qua dentro c'è sta Charizard Eh questa affattura Nel panchetto Manca aperto Mamma mia Perdonatemi Ma che devo aprire adesso? Ce n'è una dorata Che vuol dire? Famme su Famme su Famme su Famme Vai Togli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quindi la nona Ah oh ma che è sta roba complicata E la decima E l'undicesima So quelle che Quelle cicciose Potrebbero essere cicciose Ok Di solito la nona no La decima e l'undicesima Quindi mi raccomando Quando arrivate qui Scavicchiate ma non Scavicchio Io faccio come piccoli brividi La subito alla fine Io ho trovato La cacca La cacca Vai vai 1, 2, 3 Oh c'è Armander Eh vabbè Bello Mi piace Mi lo porto a casa 4, 5 Arboliva Questo fa Dica Dica i nomi Arboliva Questo è buono per l'Oio Il Team Struntz qua Grunt 7 Ma che c'è Altaria? Altaria Altaria No se spassa Ma questo è gomma gomma Ma regà è gomma 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 Ma perè dorata dai Gomma 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 Eee Tainamo Eee Cacca Oh Oh fermi Vai No cacca Cacca uovo Prego Prima No vai Una Sì ma qui la ti metti Cioè fai così La fai a stendere Due Ma no ma devi far Devi far vedere Questo Così Oh Oh Vada Uno Questo è spisse oggi Guardalo Sopraticissimo Cacacco l'arnaso Culo culo Ho perso il cotto King Ambit Vai vai Tanto lo vedi perché Comincia una sbrillucina Oh in Cologno Oh in Cologne Jungus E Sly Che c'è Cacca Fa la fine Questo è il delfino curioso Belluccica Delfino curioso Basta è l'ultimo Belluccica Mi ha trovato un cazzo E questa su Pazza che macello Smolib Ammazza quanto puzzano Non ti permettere mai più Mai più Ma in Cogno Questa è la carta motocicilista Vroom E varum Che vroom Quindi era la prima sotto Robo Ivi Shackle Togigis Dai poi le leggo tutte Niente Diglett Quello lo conosco Questa la legga l'inglese mio Roulette Che vabbè va più di qua Roulette Baltary Baltoy Fizzin Intanto sta a morire Deathriss Fruzz Penso che Questa sia Storm E bannerà Stuncfish Ui Stuncfish Capsackid Attenzione Capsackid Olè Un cleffa Full art Da parte di Simone Che cazzo è Sono paura Che devo fare Oddio Mo che faccio Che cleffa è E l'ultima Questa è cicciosa No È un palafin Palafin Faccio di solito Le carte quelle così Più belline Si fanno vedere Si fanno vedere Nel dettaglio Perché regà Questo cleffa È veramente Veramente Bello Aspetta Questa è cacca Cacca Le carte belle del box Si chiamano Pull Il pull Esatto Cacca Larvesta Rowlet Questa è una Cicciacera Bandi Smalliv Ma che stai Una super cazzola Malamar Malmar Claude Sjern Grand Guarda questa Spoglirà tutte le carte Tutte È l'ultima Spera così No è cacca Chi è? Ah no Non uso Niente Darkrai Cacca Cacca Andiamo avanti Energia Teni Cooper di Paldea Baltoi Excadrille PGA8 Che potete vedere Ai miei capelli Dragonair Toyskull Zigzagoon Ma che stai La Zinzagoon Che ha un art Molto molto bella Ma non vale Una cippa lippa Niente Io me le spoglio Tanto non ci capisco un cazzo Tanti pacchetti abbiamo aperto E ho trovato un cazzo Le fa full art Questo sta andando molto male Allora Vabbè Energia Toccate per culo No Finizel Toccate per culo Erdier Dai dai Eccolo che parte Dolciere Ma che stai guarda a te Ah e vabbè sto spacchetta io Mewil 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 Bafferant Crasp 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 L'arbitro Macarone Siamo inglesi naturali Bellybone Probopass Questa 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 è cosa Questa è lampeggia Che è che lampeggia No vero Niente cacca Cacca Entai 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 Energia Eevee Toad School Hondour Kombi Sharpedo Lainun Darmanida Molto bella questa arte di Darmanida Mi piace molto Sasket Eccola è sotto Asiento eh Eccola Carcadet Cadet Eh eh Questa è una trainer Questa Questo so io Quei fai quella lì Nooo Ce l'ho già E Greta E Greta E Ah no questa manca è full art Penso chissà che fosse Ma vabbacchina È Greta Ho trovato la morchia Come si dice Eh mi dia tempo Energia Lavesta Un fungo Lavecchia Un fungo Pidge Litwick Uh che carina questa Salazar Sazle Sazle Uctrio Che l'odio Uctrio Kangaskar Kangaskar Logetic Che no Lavras Molto molto bella Questa carta di Lavras Si ma è sempre cacca rimane Si non ha un grande valore Però bisogna apprezzare le carte Anche per i disegni Eh Questa è un X Questa è una delle carte più belle del set Più belle No che vale tantissimo Ha rotto il cazzo Absol X Guardate lo sguardo Quanto è bella sta carta Guarda com'è incazzato Sbrilluccicoso Io non apprezzo moltissimo il fatto che sia così sbrilluccicoso Che è una particolarità delle X De sto box Però sto disegno mi piace veramente E lo mettiamo nel pool insieme a Cleffa Eccole eh Questo è il mazzo fortunato eh Perché ho toccato il culo a Simone Allora io Sì ma quella l'aveva messa te Io Che sei Cleffa te Io Sempre tutto ma no Cleffa È rosa e ciccioso Io Bronzong Ecco Ciò potresti essere bronzong Beh Artic ecco te Ah I baffi Charmili Ah questo conosco Onda 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 Minchia Onda All'ultima Oh Vai piano piano Com'è come si fa piano piano E come si fa piano piano Devi togliere la carta piano piano Per capire se hai una carta Il Lazio Scelgo il Lazio Oh Oddio È mia È mia È un absolex Quindi quella che ha trovato Simone però fuori serie io credo che questa qua valga un po' di più dopo vedremo il valore insieme è la stessa la trovo prima io esatto però questa è la versione X 214 su 197 non so quanto è il valore speriamo che questa non ci perduta l'opportunità di trovare io mi devo rifare il pc bella 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 lo volevo guarda che bella Dragonair c'ha veramente Armour Rouge Attenzione un handstone X non che valga tantissimo non è un pokemon che mi piace però ce lo becchiamo e lo mettiamo sempre qui non ti piace un cazzo a te ecco così a jesu non gli viene il torcicollo questo dovrebbe essere un video un video anche per i bambini hai sbagliato persone vabbè Rock Ruff Wiglet Shackle bello c'è l'uomo che è i corna qui guarda ma apri apri manco tanto non sto a sculare tantissimo BISHOP KING quindi ti sfida a leggere sto nome OINCOLOGNIA OINCOLOGNIA la colonia letra di licenziamento ma che è questo è un maiale che piangono è la pre-evoluzione dei OINCOLOGNIA ah l'ECKLONOGNIA 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 maiale che piangono PJ no questa qua non è una buona serie è un Dark Rhyfe si i Dark Rhyfe ci trovano proprio che i patatini prego Max tocca a lei però che è WONSWITS WONSWITS lunatone l'hai detto bene lunatone però eccolo panico tampolo timpo e uuuu ma basta me ne vado piano piano perché vedo un colore strano vedo mezzo scuretto la famo da sotto questa pesa oh oh guarda e fammi vedere fammi partire tommai no pia no pia non rovina quella sotto l'importante è che non rovini quella sotto niaaa decidi te decidi te decidi te decidi te decidi te però vabbè molto bella belto bella non è una fuori serie niente però guardate che bel col suo arco questa via questa dorata tocca buttarla vero? ah no porco zio se becco guarda l'ho già trovato un charizard ex dorato ma se ne trovo un altro sono altri 90 euro non me fanno schifo 90 euro roulette attenzione ma la giro vedo lo sbrilluccichio lo sbrilluccichio cosa strana lo sbrilluccichio ma c'è il cazzo ci sono rimasto troppo male li rimettevano sotto l'estraforo hai visto? energy bello bello a me piaceva sì charmed era proprio figo l'art di charmed pure quella di tratini non è male no charmed è più bello odysh odysh pokemon ravanello come si chiama pokemon ravanello fluzzle ecco umbron di pokemon più amati bello mi piace ci appigiamo a julia di umbron si combi il cappello della polizia piano eh io vedo colori strani eh no piano pianissimo vai piano puoi cedere un po' il culo rotto ma dai no no potrebbe essere nex però che vuol dire 90 euro ma che cazzo è il più merdoso logio sto pokemon allora redbull redbull salata si sta strozzando lollo ma mi chiamo la regia redbull e grazie larvitar magnemite veng and fun punch charmer questo so io tutto rosa espio dart vadi 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 no niente 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 scoville in un altro pokemon si si il pokemon melanzana peperone lì odio vado no ti giuro non lo sopporto poi il tipo pure non mi piace erba fuoco ma che ebbè potente no non mi piace modda fuoco da sopra arboliva tu dimmi che pokemon hanno creato arboliva er pokemon munini er pokemon munini mo la scarto la metto sotto guardalo guardalo no si mi sento male attenzione l'energia base fuori serie no è un coglione no vado eh tadbull bub lec ecco ma perchè nomi strani eh quale ha trovato mille passa nomi devo fermo a cento chi ha detto di fare mille secondo me sono state una schiacciata frogatier drampa questo è un po' come che non si vede praticamente mai drampa pare il drago sharon whooper di baldea whooper anthum io non sono mai riuscito a pronunciarlo nel modo giusto non è fuori serie non è fuori serie però è un dark cry che ci stanno a tirare proprio a mani basic energy crowd brawler tra po' mi imparerò tutti clefery questo è caduto clefery questo sono io no tu sei clefery uffa quello è vero la 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 capsacid questo è incazzato nero e la rivoluzione di quello è messo sui house cars son son lovers bello 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 sempre cacca masquerine masquerine punch gunshot scatland scatron è un sars un sars ah no ce n'è una aspetta oh di luci quant'è qua sotto no è una gita è greta vado energia dynama bullpix froki ductrio haunstone digger's bye buizel eee non scovilla madonna quanto ti odio ti giuro non lo sopporto ma che è nel lanzano là energia audino è un audino e tu sei charmander di questo boss e dratini e dratini tutti quanti comunque sia sono settati è la stessa di prima è la stessa identico pacchetto tranne da qua charmander dratini odish e qui cambia ma che cazzo stanno la disti due malamar grumpig bello l'arvitar pure l'arvitar mi piace tanto sto disegno oh fermete fermete perché la seconda carta che vale più subito dopo il charizard ex è nine tails promesaghex non so se è questo qui ma ne erano uguali ragazzi è questo qui porco zio è full art questa si è full art non so se è questa vabbè mettiamo da parte si si lo metti là ma lo facciamo vedere c'è pure un esco ex fuori serie pure questo qui vale ragazzi che pacchetto che ha trovato simone attenzione pagame fagliele vedere attenzione ragazzi guardate questo nine tails mo io non so se è questo qua che vale tanto dopo vediamo signori che pacchetto che ha trovato simone se quel nine tails è quello lì mamma mia caravan questo ho già trovato questo l'ho visto questo mi ricordo fungus nospas artro fungo sismetad sismetad bello pure l'arte di sismetad litwig guarda che carino litwig gingabit è l'ultima è l'ultima un clay doll clay doll che non vale granché non ci stai a credere non credi nel cuore delle carte esatto nel principiante non credi nel cuore delle carte che cazzo sta a credere nel cuore fortuna è nel cuore mamma mia dogby lamporce bloom bronzo guardate che bello bronzo sbronzor sbronzor altal smarer buffala buffala bill meanwhile voilà porca l'hai trovato porca dr***a l'hai trovato si è lui porca dr***a strappola guarda se è vera strappola guarda se è vera voilà com'era voilà voilà e che son fe porca nella manca la sua che bello regà porco zio bello vero comunque questo è quello terraformato là esatto diciamo il secondo charizard della storia di tipo buio signori questa si c'era facito rosigalo come pazzo ma mo io lo mando ma che scherzi mo io lo mando subito gli dico guarda un po' che ho aperto allora vabbè a posto poi me potremmo pure ciao ciao se ne troviamo un altro eh eh no qui è possibile eh regà c'è sta gente che compra box e box e box ma che 100 euro sta di più pilotino charmandero sta di più 100 euro è quello d'oro questo co ho letto se lo vendono minimo a 250 lino tre per songe peppa pig e palafin un cazzo impanato un cazzo impanato allora red bull un'altra volta shakaw suono magneto magneto ma non era quelli di marmo ma ci potrebbe stare un gold box un gold pack potrebbe stata per tutto bronzo quello so io un god pack uguale a prima però vedi bronzo anche birro grava questo è pisino anche se ragazzi ho trovato quella lì ma sai che dentro c'è uno due tre quattro cinque sei sette adesso sono tredici pull su a blu c'è sette ce ne stanno ancora no c'è no scusa so massimo dieci ma possono essere anche otto sette e questa niente questa è cacca però sì essendoci charizard ex secondo me l'arte le potremmo pure buttà però non so su che base fanno i box non lo so non lo so fanno i pacchetti e poi no no quello no quello no cioè penso che vengono stampate e imbustate e poi diminu sì non è che ci puoi trovare a duciare i zardex dentro lo stesso box capito quella è l'ultra rara e ce ne sta solo una box ok espion charpedo togekiss probabilmente tutto il mazzo è fatto così e ogni tanto ne mettono una campione no 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 io da quello che so mettono che ne so tot fuori serie e una ultra rara capito pal toy questo non è stato il cazzo nine tails nine tails base diciamo è sempre bello si duktrio oh figo un charme and the rollo si molto bellino arboliva arboliva quello dell'olio questo è fuori serie è fuori serie è fuori serie dove erano solo dieci che box ci ha dato fantasia store voilà rhyme rhyme che sta cosa l'avevo già trovata valeva anche qualche cosina e la mettiamo qui una bellissima rhyme fuori serie via con me sono rimasti le ultime due buste eh le ultime due buste si pure il me allora come cazzo sei niente non ne la può fare non ne la può fare tu che caruccio lui lillipoop carcadet carcadet carmelion carmalion carmalion simmo fa sparicciare senza fatte vedere da lorenzo lei se leggi sto messaggio fa finta di niente oggi chi basta non ne vado un dragonitex ragazzuoli anche questo qua ah no non è fuori serie però è particolare si modestamente guardate che bello rega cioè è un po' strano pure la texture vedete sembra una fuori serie vado li spezziamo insieme tutte le ultime vado ah no ah si questo è un altro e poi abbiamo finito e devo dire che io mi ritengo molto molto capirei quando io dico a iulia chissà se bellybolt lillipoop playfury voilà coppilla co2 sto peperone de merda e non mi entrava nelle marce tratini motorosa pure charmander sicuro charmander è arrivata tra 28 charmander wugdrio darmanida l'evoluzione di darumaka quello che ti ho detto sembra quello di peppa piga incazzata diventa cattivo oi peppa piga incazzata diglett perché a forza si chiama la peppa piga frockminer frockay piano con le parole con la f piano con le parole con la f per paure allora una cosa lì strana che se fuma friogonal toge pichi tulipani sono differenti questa è un'altra serie bonsley vedete che so che so si chiama flame ok pupitar che so si vede che so togetik l'hanno mandato italiane non italiane questa è dorata com'è questa è un'italiana ah no non sono italiana steni clay doll ma che so la parola di una marea dei clay doll non come pure lui eh sti sti clay energia base meltan carcadet towniard lilliput wishcast kangaskan kangaskan camperuf thor figlio di kmer nintels ultima carta per me signori toxricidi niente ma va bene così va bene così e non mi importa mi ha sbustato quello energia base l'acca fungus guarda caso l'ha trovata proprio spavald non si passa non si passa l'ha trovata proprio spavald si si l'ha chittato il box sicuro ma magari mi potessi a chittare il box non so quale sono i bosagli prendi i bustini e mi prendi quelle buone e l'altre e vedi che i bustini e chi te box e chi te box toge de maru ma che è toge de maru oh ahahahahah signori ho visto cose strane io ho visto cose strane ma come cambia colore ahahahahah ma che è ahahah ahahah ah vai no 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 un klauf ma che cazzo di ma che cazzo di pokemon è klauf ex klauf ex buono 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 vabbè comunque lo mettiamo nel pool allora a red bull come al solito oh mi appai ma che netbolo quella lotta no l'ho pezzito buizel vans vans ah hai visto questa calamita solrock andoom andoom questo so io guarda com'è fiero crambo sono rosa incazzato vedi finizen e l'ultima carta del box signori no attenzione un hondour full art un hondour full art ma è una mucca è un lupetto è una mucca sotto un tundrus però al solito molto bello questo hondour guardate è una mucca ma che mucca sono lupettini e simon ci stanno guarda quattro pacchetti in più eccoli qua che ho comprato io a parte stessa serie però questi sono inglesi questi sono italiane una venuccia doanni extra box altri quattro pacchetti vediamo se simone trova qualche cosa umbreon verina lunaton ropobas un volcarona un volcarona che bucio de culo e voilà no raga ma mi sa che ho va a vedere e voilà che bucio de culo che è? eh vale ah si? che bucio de culo che bucio de culo in carta in carta che bucio de culo fate pagare la silibre fate pagare la silibre fatte pagare la silibre non so chi è tirannita rex terra cristallizzato che bucio de culo che arrivo prima che non glielo faccio lenda faccio mancia monte furia fulminare era meglio in inglese era meglio tirannita rex da piace eccolo eh nice quattro pacchetti già quattro e su quattro pacchetti mi escono tutte carte buone e me ne vado eh no eh porco zio condor graveyard clay doll eh che cazzo è mica sempre domenica oggi è sabato energy abounds ah no questo è italiano eh si si sinistra italiano sinistra questo è del pd questo è sinistra si ah ah tadbull porco zio numel numel perchè mette l'accento su eh che cazzo ne so ma will questo come si dice ma will me a while fluzz fluzzell wish cash oh kakakakun time pull time pull audino non trova figo i allenatori che è un allenatore niente ma adesso va a fa culo allora con l'ansia E no rosico porco zio, io compro in box, questo compro in 3 pacchetti e ci trovo Questa è la supposta Vulpix, che brutta sta passata de Vulpix Dartrix, il maialino, Salazzo, Revenard e... No, no, questa è... Oh, attenzione, è fuori serie porco zio, è una verina Questa è un'altra sotto No, ma quella non è, quella no, l'ho vista, non è No, quella è Dark Knight Però attenzione perché, regà, porco due, 4 pacchetti comprati a caso ho trovato Tirannidarex e Verina, Full Art, non lo so, porco due Ah, ce l'hai? Sì Ma quello che mi ha ammazzato a culo Sì, Magimbu Oh, ho indovinato, hai visto? Allora, adesso al volo, andiamo a vedere quanto valgono queste carte Dopo guardiamo anche quelle di Simone Allora, qui abbiamo un 3 euro più o meno di prezzo medio negli ultimi tre giorni Per questo Dragonitex, che comunque per essere una ex non fuori serie non è male Soprano sempre 2 euro Absolix, siamo intorno ai 5 euro Pensavo di più, eh, pensavo di più Eh, si sta alzando 10 eurini Questa che ha trovato la cleffa? Eh, Max, mi pare Ma cosa? No, io Non mi ricordo Olè, un cleffa Full Art da parte di Simone Che attenzione, pensavo meno Lima, costa 5 euro più o meno Che abbiamo già trovato, abbiamo un bellissimo doppione Ace QX, ma non tantissimo anche se pensavo di più dalla carta 5 euro più o meno negli ultimi 30 giorni Hondur 5 euro 5 euro più o meno via, ok Ninetales Minchia 17 euro 17 euro 17 euro Pensavo di più, eh, perché io penso che era quello Invece se vede che è Ninetales Attenzione Carizard Carizard X Collaccia 223 Ah, pensavo di più 120 Però al momento costa 120 E poi, le base, ragazzi, questi qua poi dopo andranno Questa qua lo manda a gradare Sembra molto centrato Molto centrato Quindi, secondo me, può prendere un buon punteggio Ok, vediamo quelle di Simone, invece Eh, magari la signora ha lavorato con gli atti 227 10 euro 10 euro E già te sei ripagato, quindi, quel pacchetto Tirannitar X Esatto Pensavo di più Pensavo di più Te sei ripagato i pacchetti Ecco Con due carte molto, molto belle Questo, secondo me, salirà di prezzo Grazie mille a tutti quanti che avete visto questo video Ce l'ho ammazzata una Fatemi sapere se vi siete divertiti anche così Con due persone che, insomma, non è che Che ne sanno più di tanto Però se è stato divertente Lasciatevi un like Iscrivetevi al canale E vi ricordo che qua sotto in descrizione Fantasy Store Tutto ciò che concerne i Pokémon Garantisco Io Ottimi prezzi E so velocissimi E trovate anche il mio codice sconto Spawald5 Ci vediamo al prossimo video Ciao